E' stata una buona idea quella di chiedere ai frequentatori del blog di Beppe Grillo di segnalare i giornalisti che hanno perso il lume della ragione. Ciò ha permesso di poter comparare, confrontare quella che era la serietà, la professionalità dei giornalisti del passato, del giornale L'Unità, che godevano del rispetto anche dei loro avversari politici, da Scelba, da Andreotti e a tanti altri, con i mediocri loro eredi che all'interno della redazione dell'Unità oggi hanno solo un compito, picchiare duro, botte da orbi, anche nei confronti di coloro che negli ultimi anni le hanno provate un po' tutte dalla raccolta di firme al tentativo di iscrizione al Partito Democratico, prima di decidere di costituire legittimamente un movimento politico. Gli esempi non mancano. Maria Novella Oppo, in una sua articolessa, ha definito i deputati e i senatori del Movimento 5 Stelle piccoli fan miracolati tenuti al guinzaglio, incapaci, secondo lei, di risolvere i problemi degli italiani se non organizzando pagliacciate. Squallido. Non da meno è stato un certo Tony Iop, sempre della redazione dell'Unità, che accecato dall'ira, dalla rabbia, dall'astio, dalla bile, si è dimenticato dell'affettuoso messaggio che Beppe Grillo ha inviato a Pierluigi Bersani non appena appreso l'inconveniente che lo aveva colpito fisicamente. Pierluigi Bersani, insieme agli altri dirigenti del Partito Democratico, D'Alema, Veltroni e altri, non ne ha mai azzeccato una, ma sul piano personale non è odiabile, non è possibile odiarlo se non altro per la sua bonomia. E invece sapete che cosa ha scritto questo Tony Iop? Ha dato per scontato che non appena appresa la notizia dell'inconveniente fisico capitato a Pierluigi Bersani, i cosiddetti grillini hanno festeggiato, brindando bottiglie con distribuzione di cotillon ignobile. Personalmente mi domando, Oppo, Iop o Giop come si chiama, cosa gli ha spinti a portare così in basso il prestigio di un'antica testata, di una gloriosa testata giornalistica, quale l'Unità basta pensare al periodo della clandestinità. Un tempo sul giornale l'Unità c'era una rubrica, tempo molto lontano, che ben pochi ricordano, dal titolo Il Fesso del Giorno. Personalmente vorrei fosse ripristinata questa rubrica, cambiando però il titolo con Disonesting Redazione. Personalmente ne avrei già due da segnalare.